e benvenuti monarchici assoluti benvenuti lo vedete sfondo della nazionale quindi si commenta Italia Albania 2 a 1 ottimo esordio dei ragazzi a livello di risultato a livello di gioco ce n'è da dire eh ora parliamo di tutto ma prima iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live mi raccomando iscrivetevi al canale fatelo per gli dei dell'algoritmo di YouTube e allora ragazzi 2 a 1 con l'Albania questa Italy Inter abbiamo fatto tutto noi praticamente tutto noi interisti primo minuto Di Marco rimessa nella nostra del quarti difensiva dalla sinistra appunto vicino l'aria Di Marco impazzisce vuole servire bastoni in mezzo all'aria ma serve l'attaccante dell'Albania Bayrami che piglia la palla fa anche un bel gol perché era molto decentrato però lì ragazzi Di Marco malissimo una disattenzione incredibile e iniziamo in salita in maniera clamorosa una zero sotto dopo un minuto Di Marco male 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 distratto il nostro Dima male 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 ragazzi male 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 però reazione reazione ci buttiamo in avanti un chiesa volitivo mi è piaciuto sulla destra ha provato a saltare l'uomo più volte qualche volta c'è pure riuscito ha provato qualche tiro da fuori finché calcio d'angolo Di Marco la batte corta per Pellegrini cross a rientrare arriva il nostro bastoni il grande basto e di testa la infila dentro uno a uno all'undicesimo uno a uno quindi la 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 riprendiamo la riprendiamo la riprendiamo e lì i ragazzi si caricano ancora di più continuiamo ad attaccare frattesi frattesi pericolosissimo nei suoi inserimenti eh finché azione nostra tiro la difesa respinge arriva Barella da fuori scarica un siluro all'angolino niente da fare per Beriscia portiere dell'Albania 2 a 1 per noi Barella eh migliore in campo lasciate stare quelli della FIFA che non capiscono nulla e hanno dato il premio a chiesa Barella ragazzi è stato migliore in assoluto allora da lì poi chiudiamo il primo tempo con altre occasioni la più clamorosa di frattesi che arriva davanti al portiere scavetto e prende palo poi ragazzi nel secondo tempo caliamo in maniera vistosa prendono l'iniziativa loro noi non facciamo più ripartenze degne di questo nome troppo scarichi i cambi arrivano tardivi e sbagliati adesso ne parliamo da parte di Luciano Spalletti finché al novantesimo su un erroraccio di Calafiori palla lunga Calafiori si fa scavalcare da Manai Manai decentrato tira grazie a Dio Donnarumma esce la prende col fianco e la palla va fuori di pochi centimetri dal palo ma abbiamo corso un pericolo ragazzi quella era due a due lì probabilmente un attaccante forte un K in un Bappé lì ragazzi fa il pareggio quindi allora andiamo sulla formazione voti Donnarumma sette ragazzi ci ha salvato Bastoni sette ha tenuto la difesa tutta lui in più ha fatto il gol anche del pareggio benissimo Bastoni che ha dovuto giocare centrale voi dite ma è sempre centrale sì ma è braccetto sinistro lui invece ha dovuto giocare proprio in mezzo perché giustamente che Spalletti non si è fidato di buongiorno ha messo Calafiori braccetto sinistro Bastoni centrale e di Lorenzo a destra perché in realtà noi giocavamo a tre in impostazione poi quando andavamo a chiuderci scalava anche Di Marco e quindi diventavamo a quattro ma l'impostazione si era a tre Bastoni sette di Lorenzo ragazzi cinque perché io cosa mi aspetto mi aspetto è questo spinga crossi la mette in mezzo l'avete mai visto voi assolutamente no che abbia giocato lui e non Darmian ma lo stesso Bellanova è clamoroso questo è il primo errore che fa Spalletti io ho capito che Di Lorenzo è un tuo uomo il Napoli tutto quello che vuoi lo scudetto ma ragazzi fra Di Lorenzo e Darmian non c'è partita e neanche con Bellanova quindi ma lì doveva giocare Darmian perché giochi a tre deve giocare Darmian cazzo non Di Lorenzo che gioca nell'Inter capite campionato con cinquanta punti in più rispetto al Napoli andiamo avanti Calafiori ragazzi per tutta la partita si meritano sei e mezzo ma alla fine fa un errore quello ti costa il due a due poi non è entrata è un caso ma cinque io sto vedo per Calafiori lo sapete però se te l'è stata attenzione le puoi fare boccio anche Di Marco non puoi regalare un gollo a più un minuto quattro e mezzo Di Marco male e poi non è che si sia ripreso così tanto sì qualche cross ma non l'ho visto il solito Dima e conosciamo male ragazzi Di Marco Giorginho sei sterile lento con passato non ho visto aperture illuminanti non ho visto questi grandi contrasti si è mantenuto lì a tenere la palla ma male si vede ragazzi che è vecchio detto questo non è alternative perché chi metti lì Cristante che è un giocatore di serie C o Fagioli che non gioca da un anno e non ha esperienza deve giocare per forza lui Barella migliore in campo otto e mezzo gol da fuori clamoroso se dannato fortissimo Nicolino il giocatore più forte della nazionale senza discussioni bene anche Frattesi sette grandi inserimenti ha preso il palo altrimenti avrebbe segnato anche lui grandissimo Frattesi molto bene anche Chiesa sette saltato l'uomo è stato pericoloso tiri a giro si dannava ripartenze ottimo Chiesa ottimo veniamo a Pellegrini e Scamacca Pellegrini ragazzi cinque perché non puoi rallentare il gioco portando palla sei ore prima di liberartene e non è che nel momento in cui te ne liberi fai la giocata della vita passaggio orizzontale a quattro metri si è mangiato due gol uno dopo nove minuti palla e mezzo stupenda credo di Frattesi e lui da fermo calce e scivola e non ricorda il movimento il secondo bellissimo cross lui di testa la piglia di spalla e la pallava fuori ma soprattutto ritardava l'azione cioè 6.000 tempi di gioco in più male 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 Pellegrini male Scamacca ragazzi peggiori in campo 3 io non ho mai sentito Scamacca si è limitato forse a fare qualche sponda fatta anche male su 7-8 sponde che ha fatto viene riuscita forse una imbarazzante Scamacca Scamacca 3 non ti può e poi su un'azione che ha avuto un tiro a incrociare la caccia va addosso al portiere lì c'entra un tipo forte segna Scamacca ragazzi impresentabile deve giocare le teghi ecco per me gli altri errori di spalletti a livello di scelta di formazione quindi Darmian di Lorenzo tutta la vita Pellegrini non deve più mettere piede in campo lì o ci metti uno fra Escharave e Zaccagni o ci metti Folorugio che per me può dare qualcosa a livello di fisicità di tiro vero zero esperienza internazionale ma perché Pellegrini che esperienza ha? Che cazzo di partita ha fatto Pellegrini? Sì qualcuno in più ma non è Barella non è che è arrivata in finale di Champions questo cazzo ha fatto qualche partita di conferenze di Europa di che non scherziamo quindi piuttosto Folorugio o Escharave o Zaccagni chi vuoi ma Pellegrini ragazzi ha ralentato troppo il gioco Scamacca mettere con la Spagna Scamacca la prossima partita vuol dire voler perdere non ha visto la palla tutta la vita Retechi almeno quello se arriva la palla giusta la mette in porta è un killer dare di rigore Scamacca ragazzi imbarazzante 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 Spalletti gli do sei perché comunque l'ha portata a casa ma era l'Albania 2 a 1 fino all'ultima rischiato deve fare i cambi che ho detto io in senso cioè io farei quello posso spalletti la cosa per cui lo vanto è che l'intervista post partita è stato umile e piuttosto di fare come certi pagliacci buzzurri di lecce che si vantano vincendo con squadette scarse lui ha detto abbiamo fatto poche ripartenze siamo portati la partita sul buono fino alla fine eh siamo stati troppo comodi ci ritagliavamo l'occasione colpo e tornavamo indietro abbiamo concretizzato poco quindi è stato umile però caro Luciano se abbiamo concretizzato poco fatti qualche domanda su chi avevi in mezzo all'aria ecco prossima partita magari Retechi e Noscamacca e poi anche Pellegrini fuori provare un altro prova Sciaravi, Zaccagni, Floruscio, prova chi vuoi te ma Pellegrini animale. Detto questo potete sapere la posta sapete i commenti e le go tutti quindi iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che verivino le mie notifiche di quando faccio i video di quando faccio i live live che faremo domani ci seguiremo eh gli europei di sera credo Inghilterra sì Inghilterra Serbia dovrebbe essere ma viaggiano sui social il nostro solito saluto in latino vide te mox forse inter sempre e forse dettaglio